Crediamo che bisogna rivedere anche un po' il contratto di servizi di Trottabus, atteso che per marzo e aprile le corse sono state tagliate del 50% e da lunedì 4 maggio le corse sono state aumentate di un altro 10%, cioè sono al 60%. Considerato che i lavoratori di Trottabus, molti, sono in cassa integrazione straordinaria per il Covid, quindi non ci sono spese per il personale, crediamo che per questo servizio, così come per altri che sono sospesi o comunque ridotti, il Comune riveda un po' il contratto di servizi, cioè al posto di pagare il numero di corse piene si paghi quelle realmente effettuate e questi soldi possano essere destinati a ristorare parzialmente tutte le attività che in questo momento sono sofferenti.